Lui ci deve ricevere, lui ci deve ricevere, a questo punto siamo a Roma, lui ci riceve. Come ci ha ricevuto per il Salvo Melager, ci riceve anche per Alcanezzo. Noi gliel'avevamo scritto, gliel'averevamo scritto, non ci hanno considerato. Noi lo sappiamo da Torino. Abbiamo scritto al Presidente della Casa, perché ci volevamo credere. Abbiamo tutti i diritti, abbiamo tutti i diritti di sapere il motivo per il quale questi non sono stati condannati. Ma perché? Ma certo che se la farsi intercettiva suona. Ma le medaglie almerito, ma ditemi il mondo, ecco, mi deve spiegare perché lei ha dato le medaglie almerito. Ma diamoli agli imputati. Portate le medaglie a loro, perché loro se la meritano imputati. La medaglia almerito se la meritano imputati. Gli assassini imputati, qua sono imputati? Ma no, il merito di aver mandato a morte sette persone. Loro se la meritano. E l'accordo, l'accordo di mandare avanti la produzione è stata sindacati, stava in presa. Quindi l'accordo l'hanno firmato in tre. Sono responsabili tutti nella morte di sette persone. Hanno firmato la loro morte.